Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati per questo spazio di approfondimento dove affrontiamo il tema politico, siamo in vista delle elezioni amministrative di maggio prossimo e quindi ospitiamo spesso in questo ambito esponenti della scena politica che andremo a conoscere man mano ospitiamo un giovane che fa parte di una lista civica, la Nuova Fano, salutiamo subito Mosè Gaiardi, ben trovato e benvenuto Buonasera Lista civica Nuova Fano che ha un gruppo giovani, una componente giovane volenterosa e ardimentosa naturalmente siete un bel gruppo però viene spontaneo chiederti in prima persona perché hai deciso di abbracciare questa idea, questo modo di essere presente e attivo nella tua città Ho deciso di aderire a questa lista civica Nuova Fano perché credo fortemente nelle battaglie che abbiamo intrapreso in questi mesi ma soprattutto perché ho la massima fiducia nelle persone che compongono questa lista Attualmente si sente parlare nei social e altrove che le liste civiche sono uno strumento che viene utilizzato da politici navigati per diciamo presentarsi come degli immacolati novellini in realtà quando andiamo a vedere chi sono i componenti ci ritroviamo brutte sorprese invece nel nostro caso non si può dire altrettanto, non è il nostro caso questo perché siamo tutti diciamo gente nuova, gente che non ha preso parte alle esperienze politiche precedenti della nostra città e soprattutto abbiamo una competenza trasversale infatti nella nostra lista ci sono soggetti con esperienze nel campo delle forze dell'ordine c'è gente che ha esperienze nel campo delle infrastrutture, abbiamo medici e questi soggetti vogliono mettere a disposizione la loro esperienza e la loro competenza per dare un contributo alla nostra città, per far crescere Fano, per avere una città migliore non abbiamo poltroni da inseguire, non dobbiamo rispondere a nessuna direttiva di partito ma l'unico nostro obiettivo è quello di fare qualcosa di concreto per Fano e un ringraziamento particolare lo voglio fare a Stefano Pollegioni al fondatore della lista civica, prima dell'associazione Nuova Fano e della lista civica Nuova Fano e voglio fare questo ringraziamento perché sia per me che per tutto il gruppo lui è stato una guida in questo periodo, è stato un punto di riferimento e allora la nostra critica nei confronti dell'amministrazione attuale non vuole essere una polemica sterile ma vuole essere una voce costruttiva diciamo dei suggerimenti costruttivi perché a noi non interessa che amministra Fano ma interessa appunto il bene della nostra città Bene, immagino che come te ci siano, visto che abbiamo parlato di gruppo giovani ci siano altri ragazzi più o meno della tua fascia d'età che vogliono portare avanti questo impegno, insomma siete un bel gruppo Sì, abbiamo numerosi tesserati under 30 nella nostra associazione ma prima di tutto siamo un gruppo di amici che si incontra periodicamente e discute di alcune proposte e di alcuni miglioramenti che possono essere fatti sia per la nostra città ma soprattutto per i giovani per la condizione giovanile e molto spesso si sente dire nella nostra società i giovani sono il futuro ci viene venduto questo slogan in realtà questo slogan è vero solo se vengono mantenute alcune condizioni ovvero si lascia spazio ai giovani e si lascia la libertà ai giovani di prendere le loro decisioni in assoluta autonomia ok, bisogna ascoltare i consigli di chi ha più esperienza e di chi ha del vissuto alle spalle però bisogna lasciare l'autonomia di far sentire la propria voce i giovani devono far sentire la propria voce e diciamo che al momento quando si parla di politica e si parla di voto tra i giovani c'è un forte senso di scoraggiamento una forte delusione nella politica l'unico modo per diciamo cercare di avvicinare di nuovo i giovani nella politica è far capire che fare politica non significa far la fila per fare un selfie con l'onorevole di turno o andare a Roma e aderire a grandi manifestazioni ma la politica si fa nei territori si fa con azioni concrete si fa nel farsi vedere tra la gente si fa nell'impegnarsi e si parte dalle piccole azioni noi non abbiamo la bacchetta magica non promettiamo nulla di irrealizzabile ma facciamo delle azioni concrete con la finalità di risolvere alcuni dei problemi che la cittadinanza ci pone senti ma visto che sei giovane, sei un giovane immagino che tu conosca il tuo ambiente a Fano per i giovani che cosa manca? che cosa c'è che nella tua città non trovi e che cosa vorresti trovare? allora, Fano ha delle grandissime potenzialità basti dire che è la terza città delle marche abbiamo 60.900 fanesi abbiamo una superficie di 121 km2 di territorio comunale quindi le strutture ci sono le potenzialità ci sono però ci vuole anche un'amministrazione che sia all'altezza e riesca a valorizzare queste potenzialità diciamo una forte mancanza che vedo in Fano è la diciamo questo buco ovvero che i nostri giovani siano costretti per andare a divertirsi ad andare 20-30 km da Fano ad esempio a Senigallia o lungo la rivira romagnola Fano non ha nulla da invidiare rispetto alla concorrenza però ci vuole ci vogliono delle azioni concrete per cercare appunto di risolvere, di spingere rinnovare la movida fanese non bastano gli eventi indirizzati ad ogni target d'età come ad esempio il Festival del Brodetto no, ci vuole proprio una spinta basti pensare che il nostro lungomare è molto ampio va da Fosso Signore a Ponte Sasso non possiamo pensare che basti organizzare degli eventi al Lido e ciò faccia da diciamo da volano per tutta l'industria turistica fanese ok, il Lido deve essere di fiorellocchiello però ci vuole una schiera di eventi ben calendarizzati in modo che non si facciano ombra l'uno con l'altro ben pianificati ed irrevocabili per cercare di far ripartire tutta l'industria turistica fanese e l'amministrazione comunale può fare a varie possibilità diciamo per ravvivare questa situazione ad esempio dei regolamenti per quanto riguardano le emissioni acustiche meno restrittivi abbiamo l'organizzazione di bus navette ma diciamo un punto su cui mi voglio soffermare è la mancanza di eventi durante il periodo invernale addirittura lo sentiamo ancora ancora maggiormente ancora di più questa mancanza questa lacuna in quanto tolta la parentesi natalizia abbiamo questa mancanza e allora il comune deve spingere di più un altro problema che noi giovani sentiamo in modo molto profondo in modo molto rilevante è la disoccupazione giovanile i giovani faticano a trovare lavoro e quello che diciamo sentiamo ancora di più è che i giovani anche se trovano lavoro sono delle proposte farlocche sono dei contratti al limite del legale ad esempio vengono utilizzati strumenti come tirocini sottopagati rimborsi spese ma non si tratta di proposte fatte a soggetti che devono imparare ma si tratta di proposte a soggetti che sanno fare bene il loro mestiere ma vengono diciamo sottopagati per quello che fanno e detto questo se l'industria turistica fanese riuscisse a ripartire molti ragazzi riuscirebbero meglio a trovare lavoro e non accetterebbero questi contratti diciamo truffaldini quindi ci sono proposte da poter portare avanti in ambito occupazionale ma anche turistico forse il problema lavoro ok viene spontaneo dire che è una dimensione molto più grande rispetto all'amministrazione comunale rispetto alla dimensione comunale quindi lo spazio di manovra è risicato però c'è ebbene una efficace amministrazione deve sfruttare questo piccolo spazio che abbiamo a disposizione quindi i giovani spesso vengono tacciati di essere un po' apatici sul mondo della politica invece voi siete la dimostrazione che ci sono forze giovani da mettere in campo allora tutto è iniziato coinvolgendo il mio gruppo di amici e ora invece ci siamo allargati e questa cosa ci appassiona tantissimo non si tratta di seguire gli aspetti diciamo nazionali o problematiche più grandi di noi ma si tratta appunto di farci presente farci vedere nel locale e tanto prima o poi la politica ci riguarda è inutile fare finta di niente dire io non vado a votare perché tanto sono tutti uguali non cambia nulla questo è il più grosso errore che possiamo fare perché invece dobbiamo far sentire la nostra voce e dobbiamo mettersi in gioco possiamo anche sbagliare però se uno non si mette in gioco non lo saprà mai da che parte è certo insomma metterci la faccia come si bisogna metterci metterci la faccia senti una cosa che mi viene così da domandarti pensando un po' alle considerazioni che hai fatto prima sul discorso eventi movida eccetera io penso che voi che siete giovani e che amate anche la musica penso gli eventi musicali secondo te manca uno spazio per i concerti per la musica dal vivo a Fano si potrebbe fare qualcosa a questo riguardo secondo te si si può fare lo spazio bisogna trovare i giusti spazi ma soprattutto quello che manca è diciamo questa pubblicizzazione degli eventi manca una pianificazione attenta e proprio sotto il lato dell'organizzazione secondo me la pecca più grave più grave quindi la programmazione e la divulgazione in questo voi siete molto bravi con i social avete tutto portato di mano vediamo molto con i social perché diciamo che i social fanno circolare molto in fretta le informazioni molto più delle persone quindi i pensieri e le informazioni viaggiano sui social ormai il presente è questo quindi secondo te per portare avanti e promuovere questa è una strada che voi vi proponete di spingere per quanto riguarda l'ascolto dei cittadini perché anche i problemi le domande di richiesta di aiuto diciamo oggi gran parte delle informazioni viaggia sui social e addirittura possiamo utilizzare i social anche per per quanto riguarda il discorso sicurezza nei territori ci sono molti gruppi su whatsapp e facebook che vengono utilizzati per riferire a notizie ricordiamoci che non devono sostituire la segnalazione di situazioni sospette alle forze dell'ordine sia ben chiaro questo però appunto per il fatto che le informazioni viaggiano più veloci delle persone bisogna sfruttarli e coordinarli questi gruppi questi strumenti dobbiamo coordinarli in modo che riescano a raggiungere le loro finalità utilizzare lo strumento informatico non solo per farsi dei selfie ma per essere attivi nella propria città attivi nella propria città e per appunto delle finalità di sicurezza di controllo del territorio per il turismo quindi cerchiamo di trarne non solo l'aspetto estetico ma anche l'aspetto utile il massimo il massimo vantaggio insomma tanta carne al fuoco insomma se rivolgendosi a un ipotetico pubblico giovanile attraverso le nostre telecamere che tipo di messaggio ti verrebbe da dargli? allora il messaggio da dare è cercare di partecipare la vita politica comunale cercare di mettersi in gioco cercare di fare proposte concrete combattere per quello in cui si crede e detto ciò penso che la nuova Fano sia ben lieta di accogliere noi rinnovo il mio invito a farci conoscere e a venire a vedere la nostra pagina Facebook sia dell'associazione che della lista civica e per ulteriori informazioni abbiamo anche un indirizzo email che è asnoafano chiocciolalibro.it e noi siamo disponibili a qualsiasi confronto e a qualsiasi invito per diffondere le nostre idee e i nostri punti di vista su il nostro programma e la nostra città perché appunto il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa per Fano Bene, chiarissimo grazie Mosè e ringraziamo Mosè Gagliardi il responsabile del gruppo giovani della nuova Fano grazie mi raccomando perseguite con grande intento i vostri ideali e noi chiudiamo qui questo spazio di approfondimento in cui abbiamo conosciuto un altro aspetto della lista civica la nuova Fano che parteciperà alla competizione elettorale per la prossima tornata alle amministrative di maggio prossimo grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci ai prossimi approfondimenti buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti